E' la Ginnastic Studio del tecnico Massimiliano Paluzzi a ricevere la Century Latina che ha perso la settimana scorsa l'imbattibilità casalinga. Si presenta qui a Fondi per la ricerca del riscatto. Subito in avanti le prime battute di gioco sono affidate alla Ginnastic Studio che ci prova con Triodal. Lunga distanza si oppone Ciarla qualche minuto più tardi ancora Teseo ancora a servire l'arretrante appunto Triolo ma ancora super Ciarla ma ancora Ciarla si ripete qualche minuto più tardi compie veramente gli straordinari. D'Angelo la reazione da parte degli ospiti che dalla lunga distanza ci provano anche con Gaido fa buona presa sicura appunto Marco Pappa. Ancora Triolo mette al centro in spaccata ancora Ciarla D'Angelo subito in avanti per Piovesan il colpo al centro per la corrente Ciuffa che manda poco fuori. Ancora Passannante e ancora Ciarla a dire di no ai Pontini subito in avanti Teseo per la corrente Pestillo che a porta vuota manda fuori clamorosamente. Ancora la Senturi che cerca la risposta ma non la trova ancora lo scambio si gira a Triolo il colpo il messo al centro e c'è il gol di Teseo che sblocca la gara 1-0 Ginnastic Studio nei confronti della Futsal Latina. Un gol a freddo che colpisce la formazione appunto Nerazzurra con queste immagini si va al riposo con i fondani in avanti per 1-0. Di Passana ancora il pallone con Triolo, Ciarla ancora a dire di no subito ancora il Ginnastic Studio, ancora Triolo ma ancora è Ciarla con la mano a mettere in angolo. Ancora dalla lunga distanza ci prova questa volta Passannante, nulla di fatto, riconquistato il pallone Passannante per subito in arrivo con De Falco che mette la palla in rete. Il 2-0 per la Ginnastic Studio tra le incredulità dei Pontini si abbracciano a festeggiare proprio l'autore del secondo gol ma ancora ci prova ancora la Ginnastic Studio a pungere questa volta è Teseo ma fa buona guardia appunto Ciarla. Pappa si proteso in tuffo salva ancora la sua rete l'1-2 di Angeletti ancora si salva in tuffo Pappa in calcio d'angolo si riprende a giocare Terenzi lo scambio per Angeletti che trova il soffio l'angolino basso e becca e beffa l'incolpevole ex di turno appunto Marco Pappa è il 2-1 che accorcia le distanze. Angeletti ci prova ancora più tardi Passannante, Pestillo ha più riprese ma ancora Ciarla sempre superlativo soffia il pallone ci prova questa volta d'angelo ma ancora in spaccata Marco Pappa e chiede l'aiuto anche dei suoi compagni che erano rimasti addormentati. Marco Terenzi ci prova ma non c'è più tempo tra le proteste si va a chiudere il confronto anche se c'è l'ultima occasione sul tiro libero ma ancora Ciarla a salvare la porta dei Pontini mentre arriva il triplice fischio del signor Pennacchi della sezione di Albano Laziale che sancisce la fine delle ostilità. Ginnastic Studio batte Centro di Latina 2-1 grazie ai gol messi a segno da Teseo al 31esimo del primo tempo. Il raddoppio con Marco De Falco al 12esimo della ripresa nulla di fatto per il gol al 26esimo di Luca Angeletti.